Le proposizioni subordinate sono il particolare tipo di proposizione, quello più ricco anche numericamente, che svolge una funzione non autonoma all'interno del periodo, ma ha bisogno, per poter avere la sua funzione totalmente realizzata, di una frase su cui possa aggrapparsi per poter ricevere senso. Le proposizioni infatti si chiamano subordinate, perché per poter avere significato hanno la necessità di legarsi, di collegarsi o alla principale o alla coordinata, cioè a quelle proposizioni che all'interno del periodo hanno un senso compiuto. Sappiamo anche che le proposizioni subordinate possono essere subordinate di un'altra subordinata, Questo può accadere, ma in ogni caso è necessario che almeno una della catena, delle proposizioni subordinate, sia legata ad una principale o ad una coordinata, cioè riceva senso, sostegno. Il primo tipo di proposizione subordinata che iniziamo ad analizzare appartiene ad un primo gruppo di subordinate, che si chiamano completive. Completive perché completano il significato della proposizione da cui dipendono. Quando inizieremo a studiarle avrà senso più chiaro questa definizione, ma del gruppo delle completive fanno parte le soggettive, le oggettive, le dichiarative e le interrogative indirette. Ci sono altri due gruppi che racchiudono, riordinano le subordinate, sono le relative e le circostanziali, che ad una ad una analizzeremo. Partiamo dalla proposizione subordinata soggettiva. La soggettiva, come dice la stessa parola, lo stesso aggettivo soggettiva, è una proposizione subordinata che funge, che svolge il ruolo di soggetto nei confronti della proposizione reggente o principale. La principale reggente, quindi, deve essere priva di soggetto perché questa funzione verrà svolta dalla subordinata soggettiva. Guardiamo l'esempio proposto. Fermiamoci a queste prime due. È importante è la principale. È chiaro che non c'è il soggetto che svolge la funzione di essere importante. Non diciamo Mario, è importante. Diciamo è importante. Abbiamo il verbo essere alla terza persona singolare seguito dall'aggettivo importante. Il significato è compiuto. È importante ci fa capire qualcosa. Per completare il senso di questa principale interviene la proposizione soggettiva che fa, abbiamo detto, da soggetto. È importante che studiate. Chiaramente per essere una proposizione ha la necessità di avere un verbo. Il verbo può essere espresso in forma, nel modo compiuto, della esplicita che studiate, in questo caso un congiuntivo, oppure nella forma implicita all'infinito. È importante studiare. Sono le due modalità attraverso cui possiamo trovare una soggettiva. la forma esplicita, in questo caso col congiuntivo presente, la forma implicita, in questo caso con l'infinito presente. Nell'esempio che il libro vi riporta abbiamo anche la chiarificazione della funzione. È importante lo studio. Chiaramente lo studio non è una proposizione perché non ha un verbo, è semplicemente un sostantivo. Però vi fa comprendere questo esempio come lo studio farebbe da soggetto al verbo è importante. Quindi nel momento in cui lo studio, che è un sostantivo, lo trasformiamo in un verbo, questo verbo, che sarebbe la proposizione soggettiva di cui ci stiamo occupando, svolge la funzione di soggetto rispetto al verbo della principale. Quindi stiamo attenti che studiate o studiare non è soggetto, sono proposizioni soggettive, cioè la loro è una funzione da soggetto. Quindi come facciamo a riconoscere la soggettiva? Partendo dal verbo della principale. Perché la soggettiva svolga questa funzione di soggetto è importante che è necessario che nel verbo della principale il soggetto non sia presente. E non è presente perché è sottinteso, non è presente perché non esiste e quindi lo troviamo in presenza di particolari verbi. Per esempio con il verbo essere, alla terza persona singolare, seguito da un avverbio oppure da un aggettivo. Quindi il verbo essere usato in una forma impersonale. Oppure verbi impersonale, oppure verbi che sono usati in forma impersonale. Per esempio accadere, occorrere, parere, sembrare, importare. Se io dico occorre che tu rientri presto, occorre non ha un soggetto, però è il verbo della principale. Sembra che oggi piova, che oggi pioverà. Sembra non ha un soggetto, ma è il verbo della principale. Quindi questi sono dei verbi particolari che nella lingua italiana vengono utilizzati nella forma impersonale. Quando utilizziamo questi verbi nella principale, questi stessi verbi impersonale, essendo proprio impersonali, non hanno soggetto. E allora sarà la subordinata a fungere da soggetto per loro. In altri casi, nella principale troviamo verbi costruiti con il si passivante. Si dice, si narra, si pensa, si ritiene, si crede che sia fuggito in Patagonia. Si narra, non c'è un soggetto. È il verbo narrare utilizzato con il si passivante. Quindi nella principale si narra, non c'è soggetto. La funzione del soggetto viene realizzata dalla proposizione soggettiva subordinata. In altri casi, il soggetto non esiste, ma è espresso da locuzioni avverbiali. Nella principale troviamo, diciamo, non il soggetto, ma un verbo che viene costruito attraverso locuzioni verbali. Verbo copulativo più un sostantivo, un aggettivo oppure un avverbio. Vediamo gli esempi. È tempo, è l'ora di andare, è tempo di andare, è compito, è dovere, è una vergogna che il mare sia inquinato. È una vergogna, in questo caso abbiamo il verbo essere la terza persona singolare, che non ha un soggetto, ma il soggetto viene, la funzione di soggetto viene realizzata dal completamento del periodo attraverso l'introduzione di una soggettiva. È una vergogna che il mare sia inquinato. È un piacere andare con te al cinema. Andare con te al cinema svolge la funzione di soggetto della proposizione principale. È un piacere. Per completare, allora, e riassumere, le soggettive sono delle particolari proposizioni subordinate, completive, dette così perché completano il significato della proposizione principale reggente. Nel caso specifico, le soggettive svolgono il ruolo di soggetto per quella proposizione reggente principale che non possiede il soggetto ma è costruita attraverso tre categorie importanti di verbi. I verbi impersonali oppure usati in forma impersonale, i verbi costruiti con il si passivante, oppure le locuzioni verbali formate dal verbo copulativo seguito da un sostantivo, da un aggettivo oppure da un avverbio.